Il gruppo del fare, noi lo siamo già, perché come dicevo oggi i giornalisti, basta andare a vedere le presenze in questi quattro anni e mezzo del mio gruppo, sia in aula che in commissione, noi ci siamo sempre. Abbiamo trovato questo gruppo di amici che sono disposti in questa fase ultima, al di là delle colorazioni, non solo di fare degli annunci ma di portare in aula e votare delle leggi e quindi abbiamo colto l'occasione, insomma dopo che questa sia anche l'opportunità di approfondire un rapporto politico, può essere. Siccome abbiamo delle leggi che da più di un anno giacono in commissione, che noi riteniamo che siano importanti in questa fase qua, cito quella della difesa del suolo, della tutela del territorio, della difesa del suolo, con tutto quello che sta succedendo in Italia ma anche nel Veneto, penso che sia una cosa importante proprio perché è importante prevenire nella difesa e nella tutela dell'ambiente, indubbiamente questo vale ancora di più. Per non perdere tempo, per evitare piazzate e barricate, utilizzare al meglio il tempo che abbiamo davanti. Dico anche chiaramente che ritengo, riterrei preferibile che invece che fare i ricorsi e le barricate contro Roma per Italia e le regioni, seriamente si chiedesse di farlo anche in tutte le altre regioni, a partire dalle altre regioni, ma si desse una mano anche noi tenendo conto che in Veneto la spesa corrente negli ultimi tre anni è aumentata di 270 milioni. Credo che qualcosa si possa fare anche qua. Io resto un consigliere di opposizione. È interessante invece avviare una collaborazione istituzionale per terminare la legislatura approvando leggi che possono dare risposte concrete per i Veneti e per il territorio Veneto. Aver scelto come primo obiettivo la legge sul consumo del suolo significa privilegiare la rigenerazione urbana sostenibile piuttosto che nuova cementificazione. Non vedo niente di male su una collaborazione istituzionale per terminare la legislatura, visto che il gruppo che si unisce oggi è stato fra i consiglieri più presenti in aula e molte volte non abbiamo potuto legiferare perché mancava il numero legale.